Passo la parola alla consigliera Piccinini, si prepara alla consigliera Costi. Grazie Presidente, io comincerò con una premessa, nel senso che si sente parlare ultimamente di inizio della fase 2, intanto ci terrei a dire che ancora non siamo veramente entrati nella fase 2, siamo in una fase transitoria, ebbene naturalmente ha fatto il Presidente Conte a scegliere quella che è di fatto una riapertura ragionata, perché intanto naturalmente ringrazio ovviamente il Presidente Bonaccini della sua relazione, però bisogna dire anche in maniera chiara che dal 4 maggio il virus purtroppo sarà ancora con noi e non sparirà come forse qualcuno evidentemente si immaginava, qualcuno anche che inizialmente chiedeva si aprisse tutto, poi che si blindasse tutto quello che si voleva fosse riaperto e ancora adesso cambia idea e chiede di aprire qualunque cosa, insomma soluzioni come dire pret-à-porter a seconda dei sondaggi e del sentiment popolare. Devo, mio malgrado purtroppo però anche prendere atto che anche qui, e lo dico con rammarico, perché devo riconoscere che è stato fino ad oggi tenuto da parte della Giunta del Presidente un atteggiamento equilibrato, ultimamente però negli ultimi giorni vedo che anche qui purtroppo non si rinuncia alla polemica, da una parte si parla di gioco di squadra, dall'altra non si rinuncia a dei distingo, a dei ma, a dei però, a dei si poteva fare diversamente. Allora un'attenzione a non, davvero anche qui a non inseguire il consenso perché la china sarebbe davvero molto pericolosa. Fortunatamente, come dicevo, abbiamo un governo che si sta assumendo delle responsabilità importanti per cercare di contemperare il diritto alla salute e il ritorno alla normalità, che significa anche assumersi il rischio di non accontentare tutti. Per esempio, chi chiedeva che si riaprissero le scuole già da domani? Tutti gli scenari elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico, purtroppo, sconsigliano la riapertura delle scuole perché farlo significherebbe certamente vanificare gli sforzi fatti da un paese intero, emettere a rischio la salute di tanti e non ce lo possiamo permettere. Non voglio sfuggire nemmeno a un tema che comprensibilmente è ed è stato tanto discusso, che è quello della riapertura dei centri estivi. Se forse ci può essere qualche ritardo sulla tabella di marcia, io questo non lo voglio negare, in questo delicatissimo peraltro ambito critico e di non facile gestione, visto che di questa regione si fa come al solito una narrazione secondo cui noi siamo sempre i migliori e da cui tanti si ispirano. Io credo che anziché esibire metaforicamente cartellini squalificanti di qualsivoglia colore, aspettando soluzioni dall'alto, io mi sarei aspettata uno scatto, sempre per rimanere in tema calcistico, per esempio dall'assessora Salomoni, che già da tempo poteva mettersi al lavoro su questo, come peraltro si è fatto in tantissimi altri ambiti, senza neanche tante polemiche. E invece io mi attengo a quanto anche emerso, devo dire anche con fatica, in commissione, la quale più che puntare il dito contro una ministra impegnata costantemente su più fronti, altro non ha fatto. Posto che in realtà non ho ben capito in cosa esattamente si è impegnata l'assessore, non sono sicura che la ragione sia da attribuire ai problemi di connessione appunto della seduta. E la cosa tra l'altro è risultata anche alquanto paradossale, visto che sarebbe anche con lei che dovrebbe occuparsi di Digital Divide, sperando anche che quel Restiamo Uniti, che affolla le nostre bacheche, sia di monito anche per lei affinché possa adoperarsi pieno in fondo per garantire il diritto alla connettività per tutti e quindi il diritto all'inclusione. Serve dunque essere seri ed è giusto avanzare un passo alla volta con gradualità, nell'interesse di tutti, anche di quelle attività che per loro natura sono più esposte ai rischi e che purtroppo non potranno riaprire nell'immediato e che vanno sostenute, come già giustamente si diceva, io su questo concordo, con misure aggiuntive per lo sforzo a cui oggi sono sottoposte. Ed è uno sforzo che dovremmo fare anche noi come classe politica nell'immaginare la ripartenza. Oggi siamo tutti presi dalle circostanze del momento, è anche normale che sia così, ma è fondamentale ripartire avendo una visione delle cose che vada oltre la contingenza. È un'opportunità che abbiamo, che la classe politica ha per dimostrare di sapere guardare avanti, con lungimiranza e cogliere anche quest'occasione per cambiare certi paradigmi. Questa pandemia ci ha obbligato e ha obbligato per il momento e su certi aspetti anche i più reticenti a cambiare. Da adesso in poi verrà sempre meno la pressione da cause esterne e saremo tutti chiamati a maggior ragione alle nostre responsabilità passate, presenti e future e davvero dovremmo dimostrare di aver capito la lezione evitando di ripetere gli stessi errori. Penso per esempio alla sanità, serve mettere mano alle criticità strutturali che si traduce in investimenti maggiori alla sanità pubblica e anche per esempio più presenza all'interno delle residenze per anziani, che è un modello che va assolutamente rivisto. Penso alla stabilizzazione del personale, nella revisione del ruolo e delle risposte della medicina territoriale. Penso all'ambiente e in questo senso davvero questa pandemia ci ha insegnato tanto. Servono azioni concrete, serve incrementare la mobilità elettrica, quella alternativa, la micromobilità, serve anche rafforzare le cosiddette autostrade digitali per il lavoro a distanza, mettere in campo azioni per la produzione di energia pulita, intervenire per limitare gli allevamenti intensivi, ma insomma la sostenibilità ambientale in genere dovrà essere il nostro e il vostro faro. C'è davvero molto da fare e la tanto invocata normalità è un posto che non somiglia più al passato, ma che dobbiamo ancora costruire oggi guardando al presente, ma con un occhio al futuro e anche con grande lungimiranza. Grazie.